Mi chiedo come sia stato possibile da parte dello Stato permettere che questi quartieri come Parco Verde potessero esistere. Non ci vuole molto, ci vuole veramente poco, solamente un poco di buona volontà per rendersi conto che questi quartieri non potevano che produrre questi frutti. Chi li abbia voluti secondo me meriterebbe la galera, il guaio che in Italia purtroppo nessuno mai è responsabile di niente. Ammassare in un solo posto tutte le famiglie poveri dei quartieri più poveri e degradati di Napoli dopo il terremoto dell'ottanta, parliamo della Pignaseca, della sanità dei quartieri spagnoli, di Forcella, di Miano, del Pallonetto di Santa Lucia, metterli in un solo posto e abbandonarli a se stessi è stata veramente una tragedia immane di cui nessuno può lavarsi le mani adesso, assolutamente nessuno, né i vecchi politici né coloro che ne sono gli eredi. Grazie mille! Grazie.